Quelle posizioni avete? Ma devo dire, da un certo punto di vista ha ragione Marino a volere istituzionalizzare la crisi e cioè andare in Consiglio Comunale di Roma Capitale per vedere chi ci sta o chi non ci sta. In fondo era troppo facile farlo dimettere senza spiegare perché. Quindi, da questo punto di vista, pur dando un giudizio assolutamente negativo sull'amministrazione Marino, sulla sua storia, sui modi e le forme per cui si è arrivati alla crisi, però in questo ultimo passaggio ha ragione lui. Dica al PD che non lo vuole più. Vediamo se i consiglieri comunali di Roma Capitale e del PD sono d'accordo. Ne vedremo delle belle.